Il nuovo Napoli di Donanoni si presenta al Granillo contro la Regina con gli stessi 11 schierati in campo da Reia. Domenica scorsa la partita comincia con le due squadre che si studiano e per almeno una ventina di minuti le emozioni tardano ad arrivare. Al 28esimo però il Napoli ricasca nel brutto sogno su un'azione manovrata a Cozza in becca Corradi il quale sul filo del fuorigioco si trova a tu per tu con Navarro e lo trafigge. Sembra ripetersi lo stesso copione di ogni trasferta poiché gli azzurri non reagiscono e a parte un rigore evidente negato a Cannavaro le azioni degne di nota sono pari a zero con un colpo di testa nel finale di pazienza deviato in angolo dal portiere calabrese. Il secondo tempo però inizia in maniera diversa sembra un Napoli con piglio diverso. Il pallino del gioco è sempre nelle mani degli azzurri e il pedominio a centrocampo è evidente. Al 14esimo Lavezzi sfiora il gollo con un gran tiro al volo su assist di petto di Salaceta. La palla finisce di poco alta sopra la traversa. Dopo solo 5 minuti arriva il pareggio, Salaceta salto un uomo in aria e si presenta tu per tu con il portiere Amaranto e nasce una carambola risolta dalla corrente Lavezzi che insacca. Il Napoli pareggia e si sblocca anche mentalmente nonostante il predomino territoriale degli azzurri però a sfiorare il gollo nel finale la regina Ken Stuani appena entrato fa tremare i tifosi partenopei.